Il nostro atelier si propone di introdurre lo studente alla progettazione parametrica, intesa come processo sia ideativo che compositivo, attraverso l'esplicitazione del processo di concezione che è strettamente e indissolubilmente legato a quello di rappresentazione. Il processo progettuale sarà quindi legato all'indagine dei metodi e degli strumenti di disegno che sono sempre più utilizzati per la prefigurazione del progetto di architettura. Si presenteranno le potenzialità del disegno digitale assistito da sistemi di programmazione visuale e processi BIM per una più efficace ed efficiente gestione della complessità morfologica e funzionale nella fase compositiva. L'atelier così inteso consente allo studente progettista di acquisire nuove metodologie per il controllo della complessità, intesa non soltanto negli aspetti prettamente formali ma anche come integrazione dei diversi sistemi che compongono l'oggetto architettonico.